Restituire la dignità istituzionale al Consiglio Comunale e rispettare il ruolo della massima rappresentanza cittadina. Accade a Grottaglie dove il gruppo consigliare insieme alla segreteria del PD cittadino non intende assistere, dice, ad un'offesa della massima rappresentanza popolare. Il Consiglio Comunale di Grottaglie non può ridursi a fare passacarte oppure essere alle dipendenze dell'esecutivo. La legge è molto chiara, c'è il ruolo dell'esecutivo, del sindaco dell'esecutivo, ma c'è il ruolo di consiglieri comunali che sono stati eletti dalla cittadinanza, dai cittadini, per poter svolgere il proprio ruolo. E purtroppo, anche con questa nuova amministrazione, con questa nuova consigliatura, con questo nuovo Presidente del Consiglio, si ripete esattamente la storia che abbiamo condannato nel passato. Ed è il PD cittadino, per voce del consigliere comunale Francesco Donatelli, a dichiarare che agirà in tutte le sedi opportune per il rispetto del ruolo del Consiglio Comunale, fino al coinvolgimento del prefetto. Noi adesso siamo appunto nelle condizioni di dire, soprattutto al Presidente del Consiglio Comunale, o ci mettete nelle condizioni di fare i consiglieri comunali, oppure agiremmo per le vie che sono consentite dalla legge, senza escludere anche un ricorso al prefetto per denunciare questa situazione anomala, proprio come dicevo prima. Il Consiglio Comunale non è un organo che passa le carte, ma è un organo che svolge il ruolo che gli ha assegnato la città.